... ... ... ... ... ... mira lui no, poi io sbrocca, mira a me cura del primo ma guarda che si è strutturato fuori molto vai levamelo dalle palle vai 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 guarda che cazzo, ti imparata ha dato oltre 200 riusci da me ecco oh sei vivo, dove è lì oh vedi che serve a qualcosa FUKI FUKI NOOOO non me lo trovo davanti sto FUKI FUKI NOOOO davvero un goccato decorata ma che cazzo sono un per poco lento perchè infatti dovevi mettere 0 chi? zelos ma tu sei pazzo ma guarda 0 ti rischi a stare molto sento ma che cazzo dai che tepe che è morto c'ha 500 qua cazzo avrei messo giocato merda dai sei uscito dagli altri togli uno oh ma che cazzo fai così oh mi apre eh complimenti stiamo senza soffidare la vita eh eh ah eh ah 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 Sì, è scurionato. Ma io sto tanto stupendo. Veramente vengono in mezzo. Non so! Meno 10! Abbiamo fatto schifo? Ah, te l'hai accorto! Goddio! Ciao a tutti ragazzi! Allora, fare un sandwich per formaggio, questo è caro! Nooo! Siete delle seghe bu-